A 40 anni dal suo barbaro assassino, lo Stato Maggiore di Fese e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri hanno realizzato una graphic novel dedicata al generale Carlo Alberto della Chiesa. L'opera è dedicata ai giovani e del resto non poteva essere diversamente, a testo di Carlo Alberto della Chiesa non si può parlare che non al presente. E' ancora più il ricordo della sua figura come uomo delle istituzioni, esempio dello spirito di sacrificio e del dovere. L'opera ne ripercorre la vita sia come uomo che come carabiniere nelle sue varie sfide, la sfida del 1943 subito dopo l'8 settembre, nella lotta del brigantaggio, nella lotta contro il fenomeno del terrorismo e contro Cosa Nostra. Ed è un messaggio positivo, un messaggio di fiducia nelle istituzioni, nel continuare a credere in quei valori che lo hanno sempre sostenuto e hanno sostenuto i carabinieri nella lotta e nella difesa delle istituzioni. E' per questo un messaggio di fiducia indirizzato ai giovani di tutta Italia affinché con il loro impegno possano costruire la loro coscienza civile che gli permetterà di essere i cittadini al domani.